Salve, sono Giusy Demetra Panico, volevo comunicarvi che a fine aprile esce Libreria il mio primo libro, il grande libro del colore a cura di Erga Edizioni, che tratta il vasto sistema del colore. Questo mio lavoro vuole condurvi, attraverso questo viaggio del sistema del colore, alla comprensione che noi siamo esseri di luce nel vero senso della parola. Infatti il nostro corpo è il frutto dell'aggregazione della materia inorganica che ha dato origine alla materia organica. Questa materia organica è dotata di una sua frequenza luminosa, colorata, di una sua frequenza sonora. Scopriamo insieme come il colore influisce nelle nostre esistenze, perché abbiamo una determinata propensione, come può migliorare il nostro stile di vita. Venite a scoprire il mio lavoro in libreria, sono sicura che non vi deluderò. Un abbraccio da me e da mia. Ciao!